Signore e signori Ecco a voi La fantasia sulla carne La smetti? Ecco a voi 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 Cento euro Da quanto tempo non la vedevo Ecco a voi 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 Perché vi è venuta questa idea di... Beh l'idea nasce dal concetto che la musica classica deve essere un'arte fruibile per tutti Viene vissuta in maniera in maniera un po' pesante Erroneamente Noi stessi che apparteniamo a noi Noi stessi che apparteniamo a noi Ciao, ciao, ciao...